Sono fuggiti a bordo di un Audi dopo un breve inseguimento dei carabinieri dopo aver tentato un furto ad una tabaccheria di via Irno. E' accaduto intorno alle 3.30 di questa mattina grazie all'antifurto dell'attività commerciale all'intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno agli ordini del maggiore Antonio Corvino è stato sventato un furto ai danni di una rivendita di tabacchi la 53 in via Irno a Salerno. I malviventi sono riusciti a tagliare una parte della saracinesca strappando dal muro in alto la sirena dell'antifurto pensando di disattivarlo ma di fatto non è stato così perché si è comunque attivato richiamando sul posto una gazzella del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno in servizio in zona per un controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio. Alla vista dei carabinieri l'auto ferma proprio dinanzi all'ingresso della rivendita dei tabacchi con motore acceso e fuggita via facendo perdere le tracce dopo un breve inseguimento. Ben evidente il taglio alla saracinesca che ladri hanno compiuto con l'ausilio di un flex operazione che non gli ha consentito però l'ingresso nell'attività commerciale ma che è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza immagini ora al vaglio dei carabinieri. Le ricerche diramate nell'immediatezza dei fatti con la fuga in autostrada dei malviventi a bordo dell'auto di grossa cilindrata non hanno permesso al momento di individuare i fuggiaschi. Sono in corso ora indagini finalizzate ad identificare i responsabili. Tempestivo è risultato essere ancora una volta l'intervento dei carabinieri della compagnia di Salerno che sono riusciti a mettere in fuga i ladri scongiurando l'ennesimo colpo ai danni di una tabaccheria di Salerno. Salerno